Il Qualità World è molto importante per noi, siamo felici di averlo vinto quest'anno per la terza volta, a conferma di un percorso di qualità che l'azienda e Bertolli stanno facendo sul prodotto e nella soddisfazione del consumatore. I punti di forza di Bertolli sono sicuramente la storicità, è una marca che ha più di 120 anni di storia, ha fatto un po' la storia dell'olio in Italia, sicuramente la vocazione internazionale, Bertolli è tutt'oggi la marca numero uno al mondo nel mercato dell'olio d'oliva e sicuramente la vicinanza al consumatore e ai suoi bisogni e questo è anche dimostrato dalla conferma del Quality Award per il terzo anno consecutivo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!